Un saluto a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata della rubrica portafogli da incubo. Come sempre andremo a vedere nel dettaglio un portafoglio reale che abbiamo analizzato ad un nostro cliente, portafoglio creato dalla sua banca e come in tutte le puntate ne vedremo davvero delle belle. Prenderemo questo caso per cercare di tirar fuori un insegnamento importante in ambito finanziario per cui rimanete fino alla fine perché soprattutto alla fine di questo video vedremo l'insegnamento più importante del video di oggi. Prima però partiamo con la sigla via. Ed eccoci qui ragazzi andiamo a vedere questo portafoglio che abbiamo analizzato gratuitamente ad un nostro utente. Questa è la nostra iniziativa che stiamo portando avanti ormai da mesi dove analizziamo completamente gratis e senza impegno i portafogli dei nostri utenti, portafogli fatti da consulenti, assicuratori, banche e poste. Ve lo facciamo gratis e vi tiriamo fuori tutte le cose che non vanno. Se volete anche voi che analizziamo il vostro portafoglio ci scrivete una mail a info chiocciola io investo.com e nel giro di pochi giorni vi risponderemo. Eccoci qui ragazzi andiamo a vedere questo nuovo portafoglio, portafoglio che nell'apparenza potrebbe sembrare non troppo male, cioè non troppo male nel senso che ne abbiamo analizzati di peggiori ma anche qui siamo molto lontani dal un buon portafoglio. Abbiamo un capitale di 265 mila euro di cui il 64% investito in fondi. Anche qui di novità non ce ne sono se non che i fondi in un portafoglio normale non ci dovrebbero essere. Notiamo che appena l'1,2 per cento investito in etf e beh è certo state lontani dagli etf perché convengono troppo. Poi abbiamo un 6% investito in singole azioni e un 28% in obbligazioni e anche qui attenzione perché ne vedremo delle belle in questo piccolo comparto obbligazionario. Cominciamo con la componente azionaria perché la più piccola andiamo veramente super veloci. Qui abbiamo un eccesso di concentrazione dell'investimento dove? Nel mercato italiano. Mercato azionario italiano che rappresenta appena l'1 per cento di tutto il mercato azionario globale e che ha un elevato rischio specifico del paese Italia per cui anche qui di tutti i mercati più efficienti che ci sono rispetto all'Italia c'è stato questo eccesso di concentrazione in Italia. La Germania pesa per un 17% e poi gli Stati Uniti paese per l'azionario dove ci sono le migliori aziende del mondo che pesa appena un misero 3%. Già qui vediamo un'allocazione per area geografica completamente sbagliata sarebbe dovuto essere l'esatto opposto ma purtroppo è così. Tra tutti questi singoli titoli l'attenzione non può che non essere attirata dal titolo BEYON, titolo a piccolissima capitalizzazione italiano che era presente nel settore dell'AIM, settore non regolamentato italiano e che è praticamente fallito. Per quanto riguarda le altre azioni sono o in trend laterale per cui non interessanti o in trend ribassista per cui anche qui da evitare come la peste. Non c'è nessuna azione in trend rialzista. La domanda è perché? Comunque se non altro in questa parte azionaria la banca potrebbe non aver fatto anche nulla, potrebbero essere scelte fatte esclusivamente dal cliente in completa autonomia. Anzi direi molto probabile perché rispecchia davvero l'operatività tipica dei piccoli risparmiatori o investitori italiani. E andiamo avanti adesso, andiamo a vedere invece la parte obbligazionaria perché è davvero quella più incredibile. Abbiamo visto che il 28% del portafoglio è investito in obbligazioni e uno potrebbe pensare wow sarà un ETF super diversificato di obbligazioni oppure un fondo internazionale diversificato invece no, non è così. E qui arriva la doccia gelata. Il 28% del portafoglio investito in obbligazioni in realtà è stato investito in una singola obbligazione, l'obbligazione Banca Galileo. E indovinate un po' qual è la banca a cui il cliente ha affidato i suoi soldi in gestione? Vediamo se indovinate Banca Galileo. Cioè praticamente la banca ha venduto al cliente le sue obbligazioni. Ci sarà stato conflitto di interesse? E qui ritorniamo al concetto della vendita che viene fatta in banca. In banca non viene fatta consulenza, in banca viene fatta vendita perché altrimenti non sarebbe stato così. Nessun consulente senza conflitto di interessi al mondo potrebbe far investire il 28% del capitale del cliente in una singola obbligazione per di più bancaria, per di più senza rating. È stata un'obbligazione senza rating quindi che non è stata neanche giudicata dalle agenzie di rating. Adesso potreste pensare che è un caso eccezionale, in realtà è una prassi tipica bancaria. Sono uscite tantissimi scandali in passato di banche che hanno venduto ai propri clienti ad esempio le azioni proprie per fargli sottoscrivere dei mutui, cioè una roba veramente da preistoria della finanza, cioè del tipo tu vai in banca chiedi un mutuo, salve senta mi servirebbe un mutuo di 100.000 euro, ah benissimo te lo do io il mutuo di 100.000 euro, te lo devo dare al tasso del 4% ma se tu mi compri le mie azioni proprie, le mie obbligazioni proprie, il tasso invece del 4 te lo faccio al 2%. Ti va di fare questo scambio? Ah, le mie azioni proprie non sono neanche quotate quindi te le potrò ricomprare un domani solo io. Cioè questa situazione qui che vi ho descritto in questo momento sembrerebbe essere assurda ai limiti del possibile eppure ci sono stati migliaia e migliaia di investitori, imprenditori italiani che sono stati raggirati con questa pratica qui che serviva alle banche semplicemente per liberarsi ad esempio delle azioni proprie. Azioni proprie che poi hanno fatto la fine che tutti sappiamo perché sono letteralmente precipitate e adesso non valgono più niente, sono usciti scandali su scandali e così via. Qui vengono proprio a mancare i principi di base di una consulenza finanziaria indipendente senza conflitto di interessi e con un minimo di competenze. Perché? Perché innanzitutto sono state vendute obbligazioni proprie della banca e chiaramente c'è un ovvio conflitto di interesse. Numero 2 non si può nessun consulente al mondo farebbe mai investire il 28 per cento di un del patrimonio di un cliente in una singola obbligazione bancaria per di più senza rating. Fosse stata anche l'obbligazione della banca mondiale non si sarebbe dovuto fare perché questo è un concentrato di rischio specifico della banca stessa. E l'obiettivo principale del consulente è eliminare il rischio specifico che grava sulla testa sulle spalle del cliente. Qui invece gli abbiamo messo una spada di Damocle sulla testa che se succede qualcosa alla banca che potrebbe succedere è questo perde tutto o gran parte del suo investimento. Eliminare il rischio specifico. Questa è la prima regola che si insegna quando si parla di investimenti. Evidentemente la controparte o era in conflitto di interesse oppure proprio non aveva la minima idea di che cosa significa rischio specifico. Andiamo a vedere quell'1 per cento di investimenti in ETF perché sono riusciti a sbagliare anche questo. Investimento fatto in ETF, l'ETF serve per catturare il rendimento di un indice di mercato invece di accedere al mercato internazionale ai minor costi possibili hanno fatto prendere un ETF super settoriale che per carità va bene ma fa parte dovrebbe far parte di una componente satellite del portafoglio marginale. Qui invece è stato buttato lì nel totale del portafoglio che non si sa che ruolo ha. E' come se io stessi facendo una torta al cioccolato e così va ci metto qualche acciuga sopra. Cioè ragazzi siete d'accordo o no? Magari scrivetemelo qui sotto nei commenti perché qui stiamo vedendo una situazione davvero paradossale che per carità a me non mi sconvolge più di tanto perché ne abbiamo viste tantissime però purtroppo queste cose accadono. E veniamo alla fine al 60 per cento del portafoglio che invece è investito in fondi a gestione attiva. Fondi che abbiamo già detto in tantissimi video supportati anche da statistica che nel 99 per cento dei casi nel lungo termine non fanno meglio del mercato quindi costano tanto e distruggono valore rispetto al mercato di riferimento. Bene qui abbiamo un bel pacchetto di fondi venduti in conflitto di interesse perché le retrocessioni fatte alla banca e al consulente erano molto alte e in più la qualità di questi fondi è davvero bassa un po come tutti. Abbiamo fatto una valutazione specifica fondo per fondo e vediamo che il miglior fondo che abbiamo trovato aveva appena un nostro giudizio di 3 stelle su 5. Cioè neanche per sbaglio hanno preso un fondo davvero valido. Per sbaglio per una botta di fortuna perché poi sappiamo che non si può sapere prima quali sono i fondi che fanno bene ma in questo caso sono stati presi tutti fondacci che costavano tanto e hanno distrutto valore. Addirittura il fondo che ci ha colpito di più è stato il Fidelity Globale bilanciato che si prende di gestione di costi all'anno il 2,25% e sappiamo che i fondi bilanciati non ce n'è uno che fa meglio del mercato. Sono una macchina attrita commissioni ricchi di inefficienze e questo fondo pesa nel totale del portafoglio fondi per il 18%. Anche qui nessun consulente al mondo indipendente senza conflitto di interesse e una minima competenza in materia avrebbe, metterebbe mai un fondo di questo tipo in un portafoglio di un cliente. Nessuno perché non ha modo di esistere un fondo di questo tipo in un portafoglio efficiente di un cliente. Ma in questa analisi ragazzi ci siamo spinti oltre e come sempre abbiamo fatto un'analisi comparativa. Abbiamo preso un portafoglio alternativo di etf che investe negli stessi settori con gli stessi pesi quindi un portafoglio gemello di etf e li abbiamo messi a confronto. Cosa avrebbe potuto ottenere questo cliente se invece di fargli tutti questi fondi, queste obbligazioni gli avessero fatto un portafoglio diversificato di etf gemello quindi a parità di rischio. Ecco qui il risultato. nell'ultimo anno, mentre il cliente ha avuto una perdita di quasi il 3%, con il portafoglio alternativo avrebbe avuto addirittura un profitto di oltre il 2%. Cioè passando da un portafoglio inefficiente a un identico stesso portafoglio quindi con gli stessi rischi ma fatto, costruito con strumenti più efficienti e meno costosi, solo per il risparmio di costi e il miglioramento dell'efficienza, il cliente si sarebbe ritrovato inattivo anziché in perdita. E infine ragazzi andiamo a fare un focus sui costi perché switchando da un portafoglio inefficiente a un portafoglio efficiente abbiamo visto i migliori benefici che il cliente potrebbe avere ma in termini di costi quanto andrebbe a risparmiarsi di sicuro ogni anno passando ad una soluzione migliore e senza conflitti di interesse? Se con il portafoglio costruito dalla banca in maniera completamente gratuita avrebbe pagato poi ogni anno oltre 2.000 euro, per l'esattezza 2.179 euro all'anno, con il portafoglio alternativo questa volta costruito in assenza di conflitti di interesse si sarebbe risparmiato la bellezza di 1.881 euro all'anno. E sapete quanti sono 1.881 euro all'anno di risparmio? Sono quasi 20.000 euro di risparmio in 10 anni perché poi questi sono portafogli di lungo termine per cui 10 anni è il minimo che uno le ottiene questo portafoglio e pronti via uno si risparmia di sicuro perché stiamo parlando di costi quasi 20.000 euro perché poi avete capito? No, le persone vanno lì a cercare quello un per cento in più un per cento in meno di rendimento, ti fanno le pulsi sul rendimento quando dall'altra parte ti stai mangiando tutto quanto in costi. I costi ragazzi sono certi mentre il rendimento lo dà il mercato un anno può essere più alto un anno può essere più basso il costo è certo e se risparmiate sulla componente costi quelli sono tutti i soldi che vi ritrovate in più dentro al rendimento anche perché le statistiche l'hanno ampiamente dimostrato ad un aumento di costi non equivale un aumento di qualità come vogliono farvi credere in banca perché altrimenti tutti quei fondi super costosi che trovate in giro sarebbero tutti stramiliardari avrebbero fatto tutti incredibili profitti ma in realtà non è così anzi è l'opposto a maggiori costi corrispondono minori rendimenti per il cliente e maggiore inefficienza. Oh lo dicono le statistiche noi ci adeguiamo perché il bello di essere in assenza di conflitto di interesse è che a noi ci interessa selezionare solo il prodotto più efficiente non è che ci pagano gli etf per far pubblicità agli etf parliamo di etf perché ad oggi sono lo strumento più efficiente e meno costoso che c'è sul mercato. Et voilà ragazzi siamo arrivati alla fine di questo video io sono sicuro che vi è stato utile che avete appreso tante cose importanti come ad esempio niente rischio specifico non comprare le obbligazioni che vi vendono le banche stesse obbligazioni delle banche così come anche le azioni proprie e non utilizzare i fondi all'interno di un portafoglio ma utilizzare piuttosto gli etf. Se questo video vi è piaciuto cliccate sul tasto col pollice all'insù scriveteci qui sotto nei commenti le vostre esperienze con le banche così magari ne parliamo in altri video magari anche nella rubrica Alessandro risponde e poi per finire come sempre non ve lo dimenticate cliccate sul tasto iscriviti qui sotto per non perdervi tutti i nostri prossimi video perché davvero ne vedremo delle belle ci vediamo alla prossima ciao